Amiche e amici di Rossini TV, buongiorno, siamo ormai in vista del Natale e allora abbiamo pensato di farne un approfondimento con uno dei protagonisti di questo Natale, siamo oggi in studio con Damiano Bartoccetti, Presidente Provinciale delle Proloco, buongiorno Damiano. Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a chi ci ascolta da casa. Allora, ho detto uno dei protagonisti perché naturalmente in quanto Presidente Proloco Provinciali e comunque coinvolto da anni in quest'idea del Natale che non ti aspetti, sicuramente anche quest'anno ne avrai da raccontare. Sì, non so nemmeno da dove partire, dall'emozione al fatto di aver avuto quest'anno comunque tanti successi, cioè le Proloco veramente sono state al centro dell'attenzione, il nostro territorio è stato al centro dell'attenzione grazie a un lavoro sinergico, insomma tanti risultati, tanti anni che lavoriamo e vorrei anche precisare il fatto e la presenza di nostra qui, questa mia, oggi grazie alle Proloco perché se non ci fossero le Proloco sul territorio a far discutere, a parlare del territorio, a promuovere il territorio non ci sarebbe un comitato provinciale, quindi io mi sento di fare a chi ci ascolta da casa lanciare questo messaggio, ringraziare i volontari che con amore, con dedizione, con senso di umiltà profondo verso il territorio e amore verso il territorio si impegnano ogni giorno per promuovere piccoli e grandi eventi. Pensate che in questi giorni sono stato a Montegrimano, quindi un piccolo borgo, un bellissimo borgo dove ci sono volontari che lavorano, non ci dobbiamo dimenticare di nessuno, anche l'ultimo volontario, l'ultimo paese che c'è dobbiamo ringraziare per il lavoro che fa per tenere vivo quel borgo, quel castello con così tanto amore. Il Natale ne è un esempio, ne è uno specchio, noi abbiamo 24 Proloco con 120, abbiamo avuto in questo periodo dal 27 di novembre arrivare ad oggi un grande successo, un successo straordinario, un successo straordinario che ha visto sì grazie alla pandemia un calo notevole circa del 50% delle presenze turistiche, ma ha visto comunque una ripartenza del territorio perché quei pullman che sono arrivati da tutta Italia hanno usufruito dei nostri servizi, dei nostri alberghi, dei nostri ristoranti e quindi è un'economia che gira, è un momento delicato, importante che stiamo vivendo, ma nello stesso tempo è anche un momento per ripartire, siamo ripartiti in sicurezza, è chiaro che stiamo affrontando una difficoltà enorme. Io stavo facendo proprio una riflessione, a parte che non sarà mai superfluo ricordare, sottolineare appunto che tutto il lavoro del Proloco, come hai giustamente detto un attimo fa, si basa completamente sul volontariato e questo va ribadito e sottolineato, ma faccio una riflessione sul tema, la misura, l'unità di misura Proloco in questo momento, proprio a causa della pandemia e di tutta questa incertezza che c'è, è forse l'unità di misura esatta per avere quella agilità, quella prontezza, quella risposta immediata, quella possibilità di spostare, di modificare il programma che serve in questi periodi. probabilmente qualunque tipo di altra struttura, magari più organizzata, più, no più organizzata, più strutturata, più schematizzata, potrebbe avere delle difficoltà a essere così agile, invece la Proloco è pronta, proprio perché è fatta di volontari sul luogo. Sì, io credo che il servizio che la Proloco dà sul territorio non lo può dare un'amministrazione comunale. L'agilità nel poter modificare una regola, per poter modificare un evento, solo un'associazione, solo una Proloco può farlo in maniera corretta, anche perché la rete che noi abbiamo su tutto il nostro territorio, perché si parla di sicurezza, grazie al nostro ufficio Politecnos di Fano che ci segue quasi in totalità tutti gli impianti di sicurezza nelle Proloco, è chiaro che ci permette di muoverci in modo agevole, possiamo cambiare all'ultimo momento le cose, mentre invece un'amministrazione comunale non lo potrebbe fare, comunque anche altri tipi di istituzioni non riescono a farlo, quindi noi abbiamo questa agilità di poterci muovere, di poter modificare in tempo reale anche tutti gli eventi e su questo è chiaro che va fatto un ragionamento, vanno ringraziati dal profondo del cuore tutti i volontari, perché grazie ai volontari possiamo fare questi eventi, grazie ai volontari c'è un'economia che gira nel territorio e che lavorano tante persone, perché non ci dobbiamo dimenticare la forza che le Proloco hanno sul territorio di portare i turisti con pochi soldi, perché quello che mi viene sempre da pensare, quello che riesce a fare la Proloco con 4 spiccioli, un'amministrazione comunale ne deve spendere 3 volte di più, quindi è un risparmio economico, io quindi ben dico sempre, cerchiamo di aiutare le Proloco sul territorio, anche alle stesse associazioni di categoria, perché questo ci permette di essere agili, veloci sul territorio, di poter modificare in tempo reale come purtroppo sta accadendo in questi giorni con la situazione pandemica che dobbiamo cambiare di settimana in settimana le regole di ingaggio, quindi questo è fondamentale e queste regole di ingaggio che noi riusciamo a cambiare così velocemente ci permettono di continuare a fare gli eventi sempre in sicurezza, ma nello stesso tempo ci permettono di poter portare i turisti, perché la promozione che noi abbiamo fatto col Natale, grazie a un grande intervento della regione Marche, che sta portando veramente tanti turisti nel nostro territorio e sta facendo scoprire le bellezze non solo legate al Natale, ma qui rendiamoci conto che i turisti che vengono, e qui si lega proprio alla agilità della Proloco, i turisti che vengono non vanno a visitare solo i borghi del Natale, ma vanno nelle aziende agricole, vanno nei ristoranti, vanno a vedere anche altri borghi dove non c'è il Natale, quindi è una promozione a 360 gradi tutto tondo che riusciamo veramente a fare con quattro spiccioli. Anche qui paradossalmente, puntando su eventi relativamente di dimensioni piccole ma di grande risonanza, date la possibilità di spalmare sul territorio il resto del tempo, cioè tutto sommato io vengo perché c'è un evento che mi ha tratto, questo evento ha una durata nel tempo limitata, non mi calamita, non mi assorbe completamente tutto il tempo del soggiorno, per cui ho la possibilità e modo di andare a vedere qualcos'altro. Certo, allora quello che io dico, perché anche su questo dobbiamo essere onesti, noi abbiamo l'iniziativa principe che è Candelia Candelara, che ha costruito all'interno un motore veramente grandioso economico e questo proprio permette ai turisti che vengono in questo territorio, non è che vanno solo a Candelara, vanno a visitare anche gli altri borghi, vanno a mangiare nel ristorante, si fermano a mangiare nelle attività, a dormire, a dormire, nei BNB, negli alberghi, c'è tutto un motore economico dietro che vede un grande lavoro dei volontari che spesso ahimè non è riconosciuto, perché noi in questi giorni stiamo discutendo con la Regione, che anzi approfitto per ringraziare il Presidente Francesco Acquaroli e l'Assessore Francesco Baldelli che ha seguito in prima persona anche tutti gli eventi del Natale assieme all'Assessore Aguzzi e anche ai consiglieri regionali, perché non scordiamoci che questo è un progetto di tutti, non è un progetto di una parte politica, questo lo voglio dire a chiare lettere, è un progetto del territorio, ben deve essere condiviso da tutti, perché la politica non va messa in mezzo nelle proloco, noi siamo un'entità che promuove il territorio, abbiamo partecipato ad un bando che la Regione ha promosso, l'Assessorato al Turismo, abbiamo partecipato ad un bando dove la Regione ci finanzia un contributo che io dico è molto importante e grazie che ci viene dato, ma quei piccoli soldi, quei pochi soldi che ci vengono dato noi gli facciamo fruttare del 300% e questo ritorna al discorso dell'agilità delle proloco, perché quello che riusciamo a portare a casa grazie alla nostra dinamicità un ente non riuscirebbe a farlo. Io vedo sempre, quando parlo con te, non è la prima volta, vedo sempre l'entusiasmo che arriva, che arriva forte e immagino che sia lo stesso entusiasmo di tutti i volontari di cui tu parli. Con chi vi interfacciate comunque, oltre alla Regione, come istituzioni, con chi si interfaccia la proloco tipo? La proloco tipo, prima di tutto col Comune, ogni proloco con la propria amministrazione comunale, poi il secondo livello è la provincia, anche se non ha aspetti attivi legati al turismo, però comunque una collaborazione, perché poi la provincia, ricordiamoci, è la Casa dei Comuni, quindi il Presidente della provincia, la Direzione Generale della provincia, che spesso si collabora insieme, noi collaboriamo con loro e loro con noi, quindi c'è un'interfaccia importante e l'altro 50% è un rapporto interistituzionale con le istituzioni e qui parlo della Prefettura che rappresenta il Governo, rappresenta lo Stato sul territorio, sia con il Prefetto, sia con il Questore, che con tutte le forze che compongono il Comitato Provinciale per l'Ordine della Sicurezza Pubblica, ci sentiamo quotidianamente per poter parlare delle attività che noi facciamo sul territorio, per poterle fare in sicurezza, per poter far sì che questi eventi vengano comunque fatti, perché spesso si dice, ah arrivano i carabinieri, allora l'evento non si può fare, arriva il controllo, no, noi possiamo fare tutti gli eventi fatti in sicurezza, con la massima regolarità del caso, perché noi abbiamo soprattutto problemi safety e security, quindi riguardante una parte della Questura, una parte dei Vigili del Fuoco, però abbiamo creato questi rapporti interistituzionali che ci permettono di collaborare insieme. Poi è chiaro, lo zoccolo duro viene con il compartimento della Regione Marche, che è il direttore che ringrazio, il dottor Raimondo Orsetti, col quale ci dobbiamo interfacciare praticamente tutti i giorni, perché parliamo di una promozione, la promozione che è stata fatta quest'anno, poi ne parleremo, la promozione che è stata fatta quest'anno sul Natale non era mai stata fatta prima, quindi la Regione ci ha creduto in prima persona, ha creduto a un progetto valido, e non lo dico io perché lo facciamo noi, perché io non lo fa Damiano il progetto, lo facciamo noi, lo fanno le Proloco, poi il Comitato Provinciale, assieme a tutto lo staff ha messo del suo per promuovere, per organizzare con i rischi, annessi e connessi che ci sono, però il grande lavoro che viene fatto con il direttore di compartimento, il dirigente del turismo della Regione Marche, è chiaro che ci permette di poter lavorare insieme. Qui partiamo dal fatto che dobbiamo lavorare insieme, lavorare uniti, ogni territorio ai propri progetti, noi nella nostra provincia abbiamo l'evento, il Natale che non ti aspetti. Parliamo un po' dei progetti, ti faccio una domanda secca però prima così, con questo arrivo di tutto questo aggravio di norme e tutto il resto dovuto prima alla sicurezza e poi dopo a tutto il problema del Covid eccetera, c'è stato mai un momento in cui avete temuto di non riuscire ad andare avanti, cioè basta non lo facciamo più? Purtroppo ci viene tutti i giorni e lo dico anche con emozione perché anche ieri sera sono stato a Montegrimano e la Presidente della Proloco è preoccupata perché poi i rischi sono tanti e voi pensate, per quelli che ci ascoltano da casa e dico iscrivetevi alle Proloco, andate da un amore perché la Proloco siamo noi, cioè se noi riusciamo a fare, dice ah ma si potrebbe fare, l'entusiasmo, bisogna metterci entusiasmo, bisogna avere inventiva, ok benissimo, venite nelle nostre Proloco, chiamateci, telefonateci, le nostre Proloco sono aperte, le nostre porte sono aperte, non possiamo dire ma la Proloco deve fare, ma la Proloco sei tu, la Proloco è il cittadino del territorio, questo ce lo dobbiamo mettere bene in testa, quindi ognuno di noi si deve sentire Proloco, Proloco perché Proloco per il loco, per il territorio, quindi ogni cittadino si deve sentire parte del territorio, quindi parte della Proloco. Bene, senti se andiamo avanti così a fare le nostre chiacchiere belle perché mi entusiasma questo retroscene e tutto, rischiamo di non parlare per niente degli eventi invece e allora dai abbiamo 5-6 minuti, 7 minuti per parlare degli eventi immediati, quelli che stanno arrivando. Allora il più importante è la festa nazionale della Befana di Urbagna che è il 4, il 5 e il 6 di gennaio, che stiamo attenzionando, stiamo discutendo come poterla fare legati ai motivi Covid, si sta pensando ad un evento in Carpegna per l'ultimo dell'anno, ci sono altri piccoli eventi, piccoli grandi eventi perché parliamo del mercatino di Natale al Pincio a Fano, parliamo dei mercatini di Natale a Urbino, la via dei Presepi a Urbino, parliamo di tanti piccoli grandi eventi che ci sono sul territorio, a Fossombrone con tutte le luminarie, con tutti i giochi di musica, praticamente tutti fine settimana, ma si va anche a passeggiare lungo il corso di Fossombrone e vediamo le luminarie bellissime, non sempre solo ci sono i mercatini ma ci sono tante altre attività collaterali e in più ci sono anche tante micro, piccole attività che le proloco nel proprio territorio fanno, piccoli eventi che comunque tengono vivi i nostri borghi, i nostri paesi. Tra questi naturalmente quelli che vengono in mente subito sono Candela e Candelara, il Natale che non ti aspetti di Monbaroccio. Ci sono tanti eventi che sono già passati e che già stiamo lavorando per il prossimo anno per promuovere al meglio, ma è chiaro che sono eventi questi trainanti, ecco tu hai citato due eventi, Candela e Candelara, Monbaroccio e Frontone che sono tre eventi trainanti del Natale che non ti aspetti. Parliamoci chiaro, dobbiamo essere onesti, se non ci fosse Candela e Candelara il Natale perderebbe molto del suo. Candela e Candela è un evento, io penso che noi dovremmo lanciarlo come evento nazionale delle candele, perché non c'è da nessun'altra parte d'Italia. E io dico sempre, non guardiamo al nostro piccolo borgo, proprio ieri che tra l'altro il Presidente della Procco di Candelara è anche consigliere nazionale, rappresentante delle Marche all'UMPLI nazionale, ne parlavamo proprio ieri nel dire che dobbiamo crescere tutti. Il grande deve continuare a crescere, ma dobbiamo far crescere tutti, perché i due tre grandi eventi devono fare da motore trainante economico del nostro territorio. Certo, e c'è un posto dove chi si vuole informare può andare a vedere un sito, un centro di informazione. C'è il sito del Natale che non ti aspetti.it, il sito delle Proloco, la pagina Facebook del Natale, la pagina Facebook delle Proloco e nel nostro sito trovate anche un numero di telefono che risponde quasi sempre, e qui lo voglio ricordare perché voglio fare un nome per tutti, la dottoressa Laura Silvestroni che è la nostra segretaria del Comitato Provinciale Pesaro Urbino, che risponde, sa anche qui la disponibilità dei volontari, che risponde tutti i giorni, compresi i sabati, le domeniche, la sera. Abbiamo un numero turistico che indipendentemente dal Natale è comunque aperto tutto l'anno. Poi ogni tanto lo scambia con altri consiglieri, ma soprattutto lo tiene lei. Il problema è questo, che quando uno ha imparato a fare una cosa, la sa fare bene, delle risposte che vanno date ai turisti, uno deve avere la conoscenza plateale di tutto il nostro territorio e avere la conoscenza di quello che si può fare. Poi chiaramente all'interno della struttura abbiamo il vicepresidente, abbiamo il tesoriere, abbiamo tutte figure. Adesso ho citato una persona, ma sono tante le persone che collaborano su questo progetto. Molto bello, molto bello. Se le Proloco dovessero scrivere una letterina a Babbo Natale, che cosa gli possono chiedere? Io la prima cosa che le Proloco dovrebbero chiedere a Babbo Natale è poterci portare fuori da questa pandemia, con molta serenità lo dico, perché la cosa struggente che abbiamo sul nostro territorio abbiamo visto sparire delle persone, sparire la storia e l'identità del nostro territorio. Quindi è l'augurio, è una grazia che chiediamo a Babbo Natale la prima cosa che quando porta i doni si carichi con sé nella sua slitta la pandemia e se la porti via. Perché questo penso che possa essere il regalo più bello che noi delle Proloco possiamo chiedere al territorio, perché poi non possiamo chiedere altro che liberarci da questa situazione pandemica. Perché in effetti poi si potrebbe ricominciare a lavorare in maniera più programmata, più strutturata e muoversi meglio. Esatto, ci potremo muovere meglio e proprio da qui lancio lo spot che in questi giorni vedete su tutti i social e anche su tutte le televisioni nazionali del grande Gianmarco Tamberi che, diciamocelo, nei filmati girati a frontone ha rappresentato il meglio delle Marche. Questo viso solare, questo viso simpatico, questo viso puro, naturale veramente rappresenta noi marchigiani, rappresenta il nostro territorio, rappresenta le nostre Proloco e qui ringrazio veramente di cuore la Regione che ci ha dato questa grandissima opportunità, perché non era nulla di scontato. Ci ha dato questa grande opportunità di portare Tamberi a diventare il testimonial del Natale che non ti aspetti, il testimonial delle Marche, vieni a visitare le Marche. Come dice Tamberi abbiamo pianto, abbiamo vinto, abbiamo fatto veramente grandi cose. Io ringrazio veramente Gianmarco Tamberi per questa testimonianza verso il nostro territorio, tra l'altro è marchigiano, non poteva essere diversamente. È veramente un video molto bello, molto accattivante, anche un audio, quindi su tutte le televisioni nazionali e su tutte le radio nazionali ci sarà in onda lo spot di Tamberi che invita a venire nelle Marche a vedere il Natale che non ti aspetti, quindi una promozione veramente a 360 gradi e quello che dicevo prima, questo investimento che la Regione Marche ha fatto per la promozione del territorio va a beneficio del territorio. Finalmente andiamo a beneficio del territorio. Una chiusura perfetta, volevo darti un minuto in più ma a questo punto hai fatto tutta una chiusura televisiva, televisivamente parlando perfetta. Damiano io ti ringrazio per essere stato con noi a raccontarci i dettagli e i retroscena importanti e interessanti di questo aspetto, di questo grande mondo delle Proloquo e di questo grandissimo cuore del volontariato che c'è dietro. Siamo in chiusura, naturalmente l'invito è quello, andando dietro a quello che ci ha appena detto Damiano Bartocetti, di visitare il territorio, di andare a vedere magari sul sito ma anche genericamente, fare una bella passeggiata, un bel giro, prendere la macchina, fare un giro, fermarsi e c'è da scoprire tantissimo anche senza averlo programmato, anche senza magari essersi messi in testa di andare a scoprire chi sa cosa. Abbiamo veramente un'eccellenza nel nostro territorio perché dal mare alla collina all'Apenino siamo in un'ora e abbiamo dei borghi veramente fantastici, veramente belli da visitare e anche da vivere. Già passeggiando, anche se non c'è nessuna manifestazione, riusciamo a cogliere la bellezza, il profumo della natura e il profumo dei sapori del nostro territorio che penso in pochi posti d'Italia ci sia così tutto compreso. In un piccolo territorio abbiamo di tutto, dal mare alla neve all'Apenino, ai periodi autunnali. Abbiamo veramente, veramente tanto da far vedere e soprattutto poter ammirare con tanto amore e tanta passione il nostro territorio e soprattutto nei nostri borghi troverete tanti volontari ad accogliervi così da rendere la vacanza più bella, più agevole e con molta più serenità. Bene, grazie allora e a questo punto, come si dice in questi casi, auguri buon Natale, buone feste. Grazie, io auguro a nome di tutte le proloco, a tutti quelli che ci ascoltano, tanti auguri di buon Natale e di buon anno, che sia un 2022 più sereno e sia molto più possibilista, insomma, che questo virus ci possa veramente abbandonare, che Babbo Natale se lo porti via il più presto possibile. Grazie ancora e allora con l'occasione faccio anche io i miei migliori auguri a tutti i telespettatori e le telespettatrici di Rossini TV e restate sempre con i nostri programmi. Ma chi se lo sarebbe mai aspettato? È stato il nostro anno. Abbiamo vinto, abbiamo pianto di gioia. Ma non abbiamo mai smesso di sognare. Per continuare ad emozionarci, vieni nelle Marche a scoprire il Natale che non ti aspetti. No puoi! No puoi!